Qualcuno lo chiamerà difetto di comunicazione. Di certo quello che è avvenuto all'ospedale Vito Fazzi lascia quantomeno perplessi, con 15 pazienti affetti da malattie degenerative neurologiche costritti a saltare la terapia con la somministrazione in vena di immunoglobulina perché nessuno aveva provveduto ad aprire il laboratorio preposto al servizio che pur messo a punto e dotato di arredi e strumentazione è rimasto chiuso senza che persona se ne accorgesse. Il tutto per un mancato rispetto delle consegne. Fino allo scorso gennaio infatti il laboratorio era allestito nel reparto di medicina salvo poi essere trasferito dal primo febbraio per competenza di reparto in quello di neurologia. Ma quando l'altro giorno i pazienti si sono presentati come di consueti in ospedale per la cura si sono trovati davanti ad una stanza chiusa col personale medico a non poter evadere la richiesta perché non autorizzato. Da qui la protesta sfociata nella direzione generale dell'ASL. Per fortuna è bastato poco non senza indignazione da parte del direttore generale Mellone perché alla fine la situazione tornasse alla normalità con i responsabili dei due reparti a passarsi questa volta la consegna nei modi dovuti e con i pazienti a poter dalle prossime ore riprendere finalmente il ciclo interrotto. Per il tribunale del malato l'ennesimo sintomo di una cattiva organizzazione sanitaria a ricadere ancora una volta sui malati più fragili.